Il casello di Santa Veneranda sembrava dimenticato, ma qualcosa si muove. L'ex ministro delle infrastrutture Paola De Micheli, ieri a Pesaro, nella sede del Partito Democratico, assieme al sindaco Matteo Ricci, ha parlato di velocità dei cantieri e di opere pubbliche come strumento fondamentale per rilanciare il paese. Dalla Orte e Falconara, collegamento più importante per le marche rispetto alla quale la De Micheli ha spiegato che i soldi ci sono e la progettazione pure, alla Fano Grosseto fino alle opere compensative di autostrada. L'onorevole ha elogiato Pesaro per essere avanti rispetto alle richieste di finanziamento con progetti validi che riguardano il contesto locale. Durante l'incontro il sindaco Ricci ha fatto leva sull'importanza di semplificare, ricordando i progetti in cantiere, tra i più importanti è anche quello della Pesaro Urbino, da 200 milioni di euro, per il raddoppio della Monte Labattese fino a Morciola e per un'ulteriore bretella da lì fino a Trasanni per rendere più raggiungibile la città di Urbino. Noi abbiamo già fatto molti interventi per velocizzare le attività di realizzazione delle opere. Saranno molto più competitive le amministrazioni, gli enti locali, ma anche le amministrazioni nazionali che hanno i progetti e che sono in grado di progettare il cambiamento dei propri territori. Questo varrà sia per le infrastrutture che per tutti gli interventi sulla qualità urbana, per tutti gli interventi di inclusione sociale. Credo che Pesaro sia già molto avanti rispetto anche alle richieste di finanziamento su progetti che riguardano la città e che modificano radicalmente alcune aree della città migliorando nella qualità urbana. Oggi discutendo con voi è emerso come ci sia bisogno che questa fase di crescita positiva, per fortuna, questa fase di crescita del prossimo semestre raggiunga tutti e che non ci siano categorie di imprese o categorie di lavoratori esclusi dalla fase di crescita. Questo sta dentro alla nuova linea politica di Ricoletti del Partito Democratico. Oggi vi proponevo una domanda e una risposta. Per chi questa crescita? E io credo anche per le piccole e medie imprese e io credo anche per tutte le categorie di lavoratori. Da ex sindaco di Pesaro gioisce anche Luca Ceriscioli, ieri presente all'incontro, per le notizie positive portate dalla De Micheli sulle opere accessorie. Lì si vede come i lavori che stanno facendo sulla circonvaliazione di Muraglia con l'acquedotto che viene trasformato da cemento a mianto in acciaio, quindi anche una riqualificazione che era prevista fin da allora. I progetti sono rimasti quelli, si sono persi due anni per i problemi che sono stati fra l'autostrada del governo, però si vede che come i problemi sono stati sanati queste opere ripartono. Per noi come città dicono fatto straordinario perché sono 100 milioni di euro complessivamente di opere e permettono di realizzare sostanzialmente il 90% della pianificazione di viabilità del piano regolatore, una città che secondo me già oggi ha una viabilità di grandissima qualità e livello. Oggi la soddisfazione di vedere i cantieri sui quali abbiamo lavorato almeno un paio di sindaci da tanti anni a questa parte e con la paura di qualche anno fa che tutto potesse rimanere sulla carta.